Il Giro d'Italia Handbike farà di nuovo tappa a Tirano. Sarà la terza volta dal 2017 per questo evento sportivo sempre più conosciuto e affermato. Domenica 14 maggio la città di Tirano ospiterà la seconda tappa del Tour 2023. Alla presentazione di Milano hanno preso parte la vice sindaca e assessora al turismo del comune di Tirano Sonia Bombardieri e l'assessore allo sport Stefano Portovenero, insieme ai rappresentanti di tutte le tappe che dal 26 marzo fino al 15 ottobre attraverseranno l'Italia. Siamo orgogliosi di ospitare per la terza volta a Tirano questa gara così speciale, commenta la vice sindaca Bombardieri, che ha uno spirito che ben si sposa con il nostro territorio e la storia dei suoi terrazzamenti. Credo sia un ottimo modo di promuovere Tirano. Quest'anno avremo un tracciato cittadino di ben 5 km conforme alla tappa internazionale e più lungo delle edizioni precedenti, spiega l'assessore allo sport Stefano Portovenero. Il tracciato di Tirano è sempre molto apprezzato dagli atleti and bikers anche per la presenza di alcuni tratti in salita che lo differenziano dalle altre tappe. La tappa tiranese è organizzata con il supporto del consorzio turistico Media Valtellina che contribuisce in modo sostanziale anche al finanziamento della tappa. Il richiamo internazionale di questa edizione 2023 è un ulteriore punto di forza nell'ambito della promozione del turismo bike e hand bike in provincia di Sondrio, sottolinea il direttore del consorzio turistico Media Valtellina Pierluigi Negri. Discipline sportive ormai pienamente affermate nel nostro territorio e che grazie al giro hand bike avranno ancora più risonanza a livello nazionale ed europeo.